SIGLA Mi dispiace, ma il suo assistito è in arresto per concussione. Di dietro. Gli anni Ottanta sono finite. La crisi per voi è un'opportunità. Voglio domenica in. Finché ci sono io torno in niente da temere. Ora basta, forse comandare! Ora tocca a noi! Che ci facciamo qui? Dobbiamo salvare la Repubblica delle banale. Signori, rock and roll. Benvenuti a Tangentopoli. Il segreto è far finta di crederci. Funziona sempre. Un salmo del premio. Un salmo. Un salmo. Un salmo. Un salmo. Grazie.